Ciao ragazzi, ho partita di Juventus Caiery 2 a 0, penso proprio che saranno shots, abbiamo controllato la partita, nel primo tempo c'è nel senso che abbiamo, l'abbiamo giocata, abbiamo dominato, abbiamo tenuto molto il pallone, infatti abbiamo avuto molto possesso palla, ma oggi potremmo formare secondo me, cioè, ottimi nel primo tempo, gol di Kent, tiro il Berna, gol di Kent appunto, ma nel secondo tempo, ho visto una prestazione brutta, sinceramente non mi è piaciuta la Juventus del secondo tempo, il Cagliari che con un cross di Pellanova la mette in mezzo per Dalbert che va una spanna nel gol del pari, e poi anche il suo Pedro colpo di testa, Shesny, le dita, che la mette sopra la traversa, e poi segna un tuazzo con Bernardeschi, un tiro che si fa, che va alla destra di Cragno, che è Ducca, e quindi la Juventus si aggiudica questa vittoria, e almeno quattro l'Atalanta che ho già perduto con il Genoa, e poi, mi piace, se quando va a?